Bella a tutti ragazzi, sono Gian e oggi vi porto contenutino con un pack opening c'è da fare un discorso un pochettino per dire allora praticamente sono usciti questi pacchi qua, c'è scritto limite 1 quindi praticamente te puoi prenderne solamente uno tra questi qua a quanto pare quindi nel senso volevo un po' dire secondo me come andrò a scegliere perché andrò a scegliere uno di questi pacchi qua allora partiamo dal primo, Derek Rose, carta interessante, Dreaming Style molto molto buono quick mi pare, OP al tiro c'è una bella release, il suo rilascio molto buono però secondo me un po' non sarà lui la mia scelta non sarà lui la mia scelta perché non mi ispira tantissimo so che comunque è una carta che è molto forte, che è in attacco effettivamente sposta veramente tanto però non sarà la mia scelta James Harden, James Harden invece raga James Harden è una carta che mi intrippa un pochettino però anche qua non abbastanza non abbastanza per il semplice fatto che sinceramente lo userei da guardia vorrei fare l'esperimento però i palleggi sono molto buoni, il rilascio burro clamoroso di Harden anche io sono indeciso stra lui e altri due forse vabbè Harden quindi no diciamo, però comunque è una carta divertente da usare per alcuni tipi di player non può essere una buona carta, non è per niente male, il suo personalizzato è buono raga qual è il god clamoroso? io sceglierò sicuramente l'Amero, è l'Onzo Ball scusate perché secondo me anche pur non avendo il badge clamoroso in difesa offensivamente il suo rilascio mi piace un sacco, mi piacciono un sacco i suoi palleggi personalizzato speedboost ha una favola e sicuramente in difesa è abbastanza tossico vabbè c'è Carl Anthony Towns che sinceramente Porz, Envid e Yao dicenti siamo già a posto Anthony Edwards bella carta, lo stimo un sacco come giocatore però non mi da tanto e poi c'è Janen, Janen secondo me andrebbe preso più in asta con badge off in difesa soprattutto quindi c'è body type clamoroso, 2.03 di altezza, grossissimo, release che mi piace veramente un sacco Janen Rose sinceramente potrei anche provare a prenderlo vendendo qualcuno, adesso veniamo e questo qua era un po' un intro così raga per spiegare un pochettino come erano le carte comunque sono tutte carte molto buone, anche lui molto buono sia Anthony Edwards che Kat quindi vabbè raga andiamo con il pacchetto per Lonzo, per forza, io me lo sento quindi let's go allora primo pacco veniamo, come sapete raga il ventunesimo pacco ci sarà Lonzo Ball bisogna vedere un attimino se si riuscirà a scurrare qualcosa di interessante andiamo a vedere andiamo, qua non trema niente, non trema, qua c'è un hit check golosissimo Nicola Jokic che potrebbe anche valere, godo, dai trema qualcosa? niente ancora niente un rubinino forse usa NRJ nei pacchi? no Jonathan Kuminga andiamo a vedere quarto pacco raga, trema qualcosa? niente, pazzesco, il drop di questi pacchetti è scandaloso per adesso però boh, non lo so, vediamo un attimino siamo pazienti e fiduciosi niente uh, hit check ancora no lì PJ Dozier sesto pacco? trema qualcosa? uh, la raga orco, giuda diamante, insomma raga mi danno sti marci di giocatori che c'è nei pacchi? centro, chi è che è? dibaz insomma raga, non mi ho fatto vedere neanche le carte che ci stanno non so, non ho ben capito quali saranno le carte che cambieranno però vabbè vabbè raga divazio trema ancora qualcosa? niente sta cippa andiamo un attimino niente, non trema ancora niente ottavo pacco Rod Higgins mi posso, posso esplodere con quella carta lì raga, cosa, 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 è un pd no, insomma un pd è un pd grosso come una casa che è divaz garantito insomma raga non mi triga ancora divaz nooo, sparatemi raga oh shit divaz garantito madre mia mi dai un vero pale zia dai, un pale nel pacco siamo a metà si 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 um cos'è un diamante ancora? dammi un pd almeno pd zi ametista pd zi ametista ti da parco chi è che è playmaker chi è che è quello buggato? no ma com'è l'illard? ma che è sta roba? vabbè siamo a metà zi ma niente ci sta dando troppo la 2k rudiz scobert minca zi questo trema di brutto e diamante ok ah un altro maxel maxwell ver vernon maxwell ma chi sei zi la bestia niente che trema però sento puzza di puzza di opale sento raga sento puzza di opale in mezzo proprio pam li ho palluz dai li li ho palluz in mezzo niente gli argento mi danno madonna andrei vuotare tu sei bello zi argento dai dammelo almeno yes let's go diciassettisimo pacco raga hit check lebron direct favors magari vai sento puzza di opale zi hey scimi scimi zi double opale in the pack ti prego zi dammi lanza ball o jalen rose io voglio jalen zi voglio jalen dammi jalen ti prego i need you bro i need you alla grande ma che è 32 ma stada ma oh no 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 zi gameplay amari stada mai che sbocco di carta raga non mi poteva dare carta peggiore carta peggiore oh rulli a shimura e niente raga ventesimo pacco pd in mezzo se gode buono sto pacco eh dai soldi per prendere jalen rose godo chi è che è 12 gregoden si gode su bravo ah no la marcus oh no ma neanche olo niente the last pack is lonzito ball lì dammelo lonzo playmaker uh lonzo ball in da squadro ma che bello minchia zi stai tatuato poco bam bam raga questa qua è una carta raga lui è un god clamoroso raga è un god clamoroso lonzo che bello che è fiammeggiante lonzo svega un attimo bam bam bella carta vabbè bel pacco dai vabbè di diva qua scartiamo tutti qua quindi tutte no le carte allenatore le vendiamo i campi pure questo pure gli schemi pure questo pure le bocce pure e questi qua raga questi qua vanno a zero esaurite non puoi più prenderlo insomma merzi puoi più prenderlo amoroso it's over raga spero vi sia piaciuto il contenuto ci vediamo nel weekend che comunque porterò gameplay di lonzo sicuramente adesso farò give me badge give me shoes che ritorna con la nonna puntata lonzo ball carichissimi raga peace che raga che raga che raga